Erano state le pattuglie in Borghese che monitorano le zone più calde a notare uno strano via vai in un'abitazione poco fuori dal capoluogo frequentata da assuntori di stupefacenti. Da qui i sospetti che poi non si sono dimostrati infondati e di manette è finito così un 42enne con precedenti penali e già sottoposto all'obbligo di firma. Il presunto spacciatore era stato già arrestato infatti più volte sempre per spaccio. Ieri così i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale sono entrati in azione assieme ai colleghi del gruppo cinofili di Firenze ed hanno bloccato e controllato il 42enne in centro ad Arezzo. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale che poi si è estesa alla sua abitazione. In diverse stanze sono stati trovati 11 grammi di cocaina, 45 di marijuana, 285 euro, provento verosimilmente dell'attività di spaccio, due bilancini di precisione, un macchinario per il confezionamento sottovuoto delle dosi ed altri oggetti per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale. Il 42enne dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere a retino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie.